Amici di Cittaderiano, buongiorno in questa giornata leggermente uggiosa, però è bello stare qui perché siamo presso il santuario Madonna di Valleluogo e siamo con una bella associazione. Siamo con l'associazione Amici di Valleluogo, oggi è un giorno speciale, Green Day, puliamo le strade, puliamo Valleluogo e puliamo prima di tutto il nostro bienvivre. Allora abbiamo qui il presidente dell'associazione Amici di Valleluogo, Luciano Giorgione, un bel progetto, i ragazzi sono tanti. Sì, sì, un bel progetto partito un mese fa, abbiamo raggiunto un bel risultato, stamattina eravamo più di 60 persone, tra ragazzi piccoli e più adulti insomma, che si stanno dedicando più alla pulizia delle strade, dell'erba con i mezzi, mentre i ragazzi stanno ripulendo le strade dai rifiuti di tutta la contrata. Praticamente siamo divisi in sei gruppi, ogni gruppo ha un referente e siamo davvero contenti della riuscita della manifestazione. Soltanto la pioggia purtroppo ci ha evitato il lavoro nel ruscello, però speriamo di farlo prima di Pentecoste nei prossimi giorni. Ascolta Luciano, il vostro slogan è rifiutiamo i rifiuti. I ragazzi come reagiscono a tutto ciò? No, no, i ragazzi sono molto 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 entusiasti, infatti la maggior parte sono ragazzi più piccoli che si sono portati poi anche i genitori, hanno trascinato anche i genitori nella manifestazione, quindi loro sono il nostro futuro, quindi siamo felici di avergli passato questo messaggio. Quindi una volta tanto, grazie a die giovani, sono stato da spunto per i meno giovani a farli partecipare. Ascolta, avete un bel progetto per il 15 di maggio, mi pare. Sì, tra 15 giorni c'è la Pentecoste, la festa qui a Valle Luoco e praticamente la sera c'è il concerto degli OverTour Gospel Family che ci faranno divertire, li ospiteremo qui nel santuario. La vostra associazione, amici di Valle Luoco, in modo piuttosto veloce sta ottenendo dei bei risultati, sei contento diciamo? Sì, siamo nati da sei mesi, da pochissimo, abbiamo già fatto molti eventi, abbiamo più di 50 iscritti, meglio di così non poteva andare. Noi ti ringraziamo e lo diciamo insieme ancora una volta, ragazzi, tutti voi che vedete questo video, rifiutiamo i rifiuti. Qui da Valle Luoco, Big Wave. Grazie.